Assistere all'allenamento del Catania è costato un anno di reclusione a Antonino Speziale e l'Ultra condannato in via definitiva per l'omicidio dell'ispettore Filippo Raciti. La condanna arriva in appello. Assolto in primo grado Antonino Speziale è stato invece condannato in appello e fatti contestati all'Ultra risalivano all'agosto del 2010 quando il regime di Daspo, cioè in dirieto di assistere alle manifestazioni sportive seguì a Torre del Grifo gli allenamenti del Catania, sua squadra del cuore. La Corte d'Appello di Catania dunque è riformato alla sentenza di primo grado che il 4 marzo dello scorso anno lo aveva invece assolto. A Speziale, già condannato in via definitiva a sei anni per l'omicidio preterintenzionale dell'ispettore di polizia Filippo Raciti avvenuto durante gli scontri del 2 febbraio dieci anni fa all'esterno dello stadio di Catania, è stato inflitto un altro anno di carcere più il pagamento di 10.000 euro di multa. Per la Corte d'Appello di Catania assistere ad un allenamento della propria squadra di calcio costituisce un reato se si è sottoposto al Daspo. Al momento della lettura della sentenza, Speziale che è detenuto nel carcere di Trapani era presente in aula. Il suo legale, l'avvocato Giuseppe Lipera, ha annunciato ricorso in Cassazione che presenterà dopo il deposito delle motivazioni, ritenendo la sentenza errata di fatto nel diritto.